Rieccoci a Primo Sinterpares, appuntamento del mercoledì, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite Monsignor Giovanni Bruseganca per l'anno di sua sastità, abbiamo parlato di tante cose, è volata quasi un'ora e non ci siamo nemmeno accorti, vuol dire che il ragionamento che stiamo facendo spero anche per i nostri telespettatori sia piacevole per noi ma anche importante per chi ci sta ascoltando. Stavamo parlando su una chiesa che dovrebbe un po' migliorare, non migliorarsi, per lo meno comunicare in maniera un po' più attuale, se è giusta questa definizione, per poter migliorare, perché oggi si sposano meno gente in chiesa di una volta? Non mi dica un problema economico perché tanto vanno in comune e spendono l'ira di Dio anche lì. No, 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 la paura del per sempre, la paura del per sempre, cioè il matrimonio religioso esige una radicalità e un impegno rispetto al quale c'è molta fragilità. Don Giovanni Buseca, lei vedrebbe un prete un domani che potesse avere una moglie? La chiesa cattolica lo riconosce? Sì, ma secondo lei lo vedrebbe un fatto positivo oppure no? Dalla sua esperienza, dalla sua storia? Ma io credo che la storia della chiesa cattolica latina, cioè quella con il Papa di Roma, prevede un rito orientale dove da sempre ci sono i preti sposati e i preti celibi, sono cattolici che rispondono al Papa. La chiesa latina in senso stretto di rito latino prevede solo il clero celibatario, cioè preti non sposati. Quindi da un punto di vista di principio può avvenire. Quali sono gli aspetti? Il prete celibe, se è indovinato, cioè se si sente realizzato e vive in profondità, è un dono immenso, è un dono immenso, perché annuncia una radicalità, dice io rinuncio al matrimonio perché ho un amore che mi riempie. È il Signore ed è la comunità. Se uno si sente questo, pur negli errori che possono avvenire, perché si impara a vivere il matrimonio, si impara a vivere il celibato anche sacerdotale. Secondo me questo è l'ottimo. Ciò non toglie che possa esserci. Io credo che la chiesa può anche pensarci, abbia delle istanze di ripensamento. Può essere anche che ci siano delle persone che scelgono una vita di prete con il matrimonio. Adesso la chiesa, credo, stia facendo i conti di più con i viri probati. D'accordo, non mi ha risposto a domanda, ha fatto il politico. Lei come vedrebbe un prete sposato? Io lo vedrei volentieri, non ho nessun, pur consapevole, che comporta vari tipi di problemi. Cioè la stessa gente dovrebbe capire che noi siamo educati a un servizio del prete non solo per sempre, ma a tempo pieno. Certo, però questo vorrebbe dire anche meno scandali. Non è detto. Scandali di tipo diverso. Non ho detto che non ci sarebbero detto meno. Può essere. Può essere che l'aspetto di vita attuale, che è così frenetico, così provocante e destabilizzante, influisca di più su aspetti che sono propri della vita celibataria. Però non è detto che sia questa la strada. Secondo me ha ragione Ratzinger quando dice ci deve essere un'esperienza di Dio più forte. Certo, era una domanda, io le sto facendo. Adesso Don Giovanni le faccio delle domande a raffica, in modo tale. Senta, venti giorni fa, giorno più giorno pieno, c'è stato quello che si è soverona, la famiglia, tutto quello che è successo. È un tema scontante. La famiglia è il perno della vita, il perno di tutto. Certo. E quando si ha bisogno c'è la famiglia. Ecco, in questo panorama che sta cambiando anche, purtroppo, in maniera che non mi convince quello che oggi vedono in tanti le famiglie che sono più vicino, magari sul pensiero. La Chiesa come vede questa? Ma io credo che la Chiesa abbia una posizione, per certi aspetti, molto chiara. Nello stesso tempo accentua il dato misericordioso, comunque di attenzione a quello che sta avvenendo. perché in realtà c'è un processo esistenziale che è in atto, che va valutato con serietà. Ciò non toglie che la Chiesa creda che il matrimonio è unico. È quello tra maschio e femmina, aperto a una famiglia che dia, come dire, speranza per il futuro e un contributo alla vita della società. Non guarda due persone che si vogliono bene. non esclude, cioè la Chiesa, come dottrina ufficiale a che vivano anche insieme ma in chiave amicale. Quindi la sessualità non è considerata nella possibilità di esplicitazione piena. Questa è la posizione della Chiesa. Attualmente c'è un discutere insieme perché è aumentato il numero di persone che esprimono personalità e identità sessuali, dubbie. Però ciò non toglie che siamo in un momento di crisi. Non della Chiesa che afferma quello che ho detto. Anche se non sempre ha educato i fedeli al rispetto di tutte le persone. perché l'omofobia in atto deve essere combattuta dalla Chiesa. Cioè la persona va rispettata per la sua identità com'è. Una persona ha il diritto di essere felice nel quadro di una pace sociale perché c'è un impegno a vivere nel rispetto dei valori e delle persone che è prioritario. Diceva quella signora dobbiamo trovarci nell'umano. E qui il problema grosso è che l'umano è un po' in crisi. Noi rischiamo di essere talora disumani. Allora io dico il matrimonio per noi cattolici è maschio e femmina con possibilmente il dono dei figli e un contributo alla società. Le altre relazioni sono nell'ordine di una società che deve dichiararsi però non sono paritetiche per noi cattolici al matrimonio sacramento. Faccio domanda e mi rispondo velocemente. Eutanasia? Eutanasia sempre noi affermiamo che non si può togliere volontariamente, incidendo in modo violento a quella che è la vita. Non ci si può togliere la vita né per motivi futili né contro Dio che ce l'ha donata. È solo Dio il creatore, colui che ci dà la vita. Però questo non toglie che delle persone devono misurarsi, era la linea di Martini in fondo al Cardinal Martini e anche altri, con quello che è di saper rispettare la sofferenza delle persone e di non, come dire, abusare delle cure per mantenere in vita. Quindi lei dice senza il tubetto lasciamo la volontà di Dio. Volontà di Dio è una parola un po' delicata. Lasciamo la scelta della persona che va aiutata a affrontare analogamente a quello che era in passato. Se ci sono le cure che possono portare a un sollievo e a un prolungamento della vita, ben venga questo. Se invece le cure sono veramente di soprafazione sulla persona e di prolungamento di un dolore in modo pesante, la persona abbia la possibilità di dire io voglio una vita naturale. Contrario all'aborto 100%? Beh comunque l'aborto è un fatto negativo, è un infierire sul più debole. Questo non significa però considerare a mo' di assatanate le persone che si trovano in condizioni in cui non sanno decidere. Io credo che sia giusto, come dire, insistere perché la 194 sia realizzata anche nella prima parte. Cioè la prima parte che diceva di avvalorare i consultori nel promuovere una coscientizzazione e dopo dal punto di vista della politica io penso che ci sia da creare aiuti molto importanti rispetto alla famiglia. Sono critico con tutte le amministrazioni o tutti i governi che parlassero di famiglia o affermassero l'aborto qualora non creino condizioni per i giovani perché si sposino, perché possono avere una vita decorosa, perché non fugano all'estero, perché possono avere i figli che ritengono adeguati alla loro felicità, eccetera. Quindi io credo che l'aborto sia sempre negativo e sia da aiutare le persone perché diminuiscano assolutamente o non ci siano. Rapporto con le altre religioni, ovviamente il mondo sta cambiando, che questo in Italia abbiamo diverse altre religioni, prendiamo l'ortodosso che poi si divide in terrami perché c'è quella rumena, quella moldava e anche quella greca perché ricordiamo. Ecco, com'è il rapporto delle religioni anche con l'Islam, con la religione islamica, ecco, com'è il rapporto? Ecco, allora dovremmo fare, io non mi prendendo io come, ma se volete facciamo un discorso bello anche con le altre religioni. Speditamente posso dire questo, noi come Chiesa Cattolica siamo passati col Concilio da una concezione in cui l'altro, il diverso, era spesso eretico o comunque la sua religione era, non portava in cielo, ma eccezionalmente ognuno si salvava per merito suo o per dono di Dio, mentre oggi sappiamo che anche le religioni sono vie di salvezza, però con determinati sé, ma però nel senso che il cristianesimo cattolico intende di essere l'autostrada, per così dire, no? L'autostrada. Allora noi abbiamo un bel dialogo con tutte le fedi, anche in città a Padova, ce l'abbiamo, anche con i musulmani e anche con, certamente con i fratelli ebrei e con gli altri cristiani, perché bisogna intendere questo, cioè ortodossi, protestanti, sono cristiani, sono battezzati, hanno i sacramenti, ecco, i protestanti hanno solo il battesimo e la celebrazione della Santa Cena, però quello che è più importante dei sacramenti è il battesimo e ce l'abbiamo tutti e poi la Bibbia che è la parola che per noi è del Signore alla quale ci riferiamo tutti, quindi il più ci unisce. Con varie interpretazioni, però. Beh, io faccio parte di un gruppo da una vita interconfessionale, che vuol dire tra pettolici, protestanti e ortodossi, ci si trova ogni 15 giorni e delle volte propongo io, delle volte propone la pastora protestante o un fratello protestante e vediamo che non sono le... ormai l'interpretazione risponde molto di più allo studio serio, no? E in attenzione che non ci siano deformazioni, sono pochi i punti su cui divergere. È molto bello capire che il Vangelo unisce, mentre sono le dottrine delle chiese che hanno dei motivi di divisione. Beh, le religioni sono state che a causa di molte guerre? Sì, al punto tale che... Sembra un paradosso, però è vero Don Brusega che la religione, già dire la religione sia a causa di guerre, di morte, di disagio, nel dirlo non suona bene, non trova? Allora, io faccio un esempio un po' provocante. Non è, dice Freud, che è l'amore che talora diventa odio? Quanto più si ama una persona, quando quella persona ti lascia, se non sei immaturo, ed ecco i femminicidi. Allora, similmente, quando uno sbaglia a capire Dio e lo interpreta come un'ideologia, cioè quando non è più fede, ma è religione, quando non è più mistero, ma è una verità che si identifica con la tua testa o con quella del leader, è pericolosissimo. Certo, però come passaggio mediatico la religione si abbina molto alla fede, è molto vicina come concetto. Beh, io porto sempre un esempio banale, la fede è quella sete che abbiamo dell'oltre e il contenuto della fede è l'acqua, no, l'acqua, che ha la sorgente, cioè il momento primario nel carisma del fondatore, nel momento in cui nasce ed è fragrante Gesù, i primi apostoli, i Vangeli, l'era apostolica. Poi, però, per essere trasmessa ha bisogno di una tubatura a questa acqua e questa in fondo è la Chiesa, no, cioè lo strumento perché ti arrivi quell'acqua, quell'esperienza, è improprio l'esempio, no, ci sta e non ci sta, però per capire che la Chiesa è nell'ordine dei mezzi, dello strumento, se così la religione, la religione è lo strumento attraverso il quale tutta la fede si esprime, però io non posso mangiare, bere il tubo dell'acqua, devo distinguerlo. Certo, vado in pubblicità, qui davvero rimaniamo fino a notte tarda, a tra poco. Ma non è appassionante?